Paura d'arrone, un bimbo di 9 anni cade accidentalmente nel fiume nero, un passante vede tutto, si tuffa e lo salva. Un anno fa venivano abbattuti gli alberi della storica Pineta Centurini, a distanza di 12 mesi resta desolazione e qualche dubbio. La Dernana perde 4-0 contro l'Olimpiagos, abbade e promuove in parte i suoi, intanto Guida smentisce l'interesse di Di Paolo per la società. E bentornati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di MTG. Paura ieri ad Arrone, quando un bambino di 9 anni è accidentalmente caduto nel nero e ha cominciato ad essere trascinato dalla corrente. L'intervento coraggioso di un passante ha evitato conseguenze gravi. Il gesto proviene da un uomo gentile, Giosuè Lizio, che già avevamo avuto il piacere di presentarvi. Scopriamo di chi si tratta nel servizio. Qui ad AM Terni Television avevamo avuto la fortuna di conoscere Giosuè Lizio la scorsa primavera, allorché fu ospite della nostra trasmissione Art Terni, che si occupa di artisti locali. In quella circostanza Giosuè ci aveva parlato della sua passione per la pittura e l'incisione, che lo ha visto protagonista di una serie di mostre e iniziative sul territorio. Da subito avevamo notato la sua sensibilità e dolcezza d'animo, e i fatti di queste ultime ore ci danno conferma che la nostra impressione fosse corretta. Giosuè, 41enne di Catania, che da tanti anni vive e lavora a Terni, infatti si è reso protagonista di un gesto nobile e coraggioso ad Arrone. Un bambino, finito accidentalmente nelle acque del Nera, ha cominciato a essere trascinato via dalla corrente. La situazione rischiava di diventare pericolosa, poiché il piccolo non riusciva a trovare appiglia a cui aggrapparsi per tornare a riva. Ed è in quel momento che Giosuè Lizio, presente sul luogo, non ha esitato a tuffarsi nel fiume per aiutare il giovane a tornare sulle sponde. Lieto fine e pericolo scongiurato, con il personale del 118 e i vigili del fuoco accorsi solo per confermare che tutti stessero bene. Bellissime le parole scritte da Giosuè sulla sua pagina Facebook a commento del fatto. Avendo visto il terrore e la disperazione negli occhi di un bambino, come fanno a fare le guerre e a sopportare quegli occhi? Oggi è un giorno che non dimenticherò mai. E non ci sarà nessuna autopsia sul corpo di Simonetta Schippa, la 64enne Ternana deceduta a seguito dell'incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo la strada provinciale 113 Tiberina d'Acqua Sparta, mentre era al volante di un minibus senza nessun'altra persona a bordo. Per l'autorità giudiziaria di Terni il quadro è sufficientemente chiaro, anche alla luce dei rilievi, svolti dai carabinieri del comando stazione di Acqua Sparta dando il nulla ossa ai funerali della donna. L'ultimo saluto alla donna, coniugata madre di tre figli e dipendente di una ditta privata di trasporti con sete a Terni, sono in programma domani, domenica 4 agosto alle ore 15.30 presso la Sala del Regno dei Testimoni di Giaua. Tra lunedì e mercoledì della settimana prossima continuerà la disinfestazione dei quartieri cittadini contro le zanzare. Il Comune ha resonato il calendario delle zone interessate, le misure precauzionali che è necessario adottare in concomitanza con la nebulizzazione dei prodotti velenosi. Abbiamo preparato un quadro riassuntivo al prossimo servizio. Il Comune rende noto il calendario per la disinfestazione da zanzare nei quartieri cittadini per continuare la campagna preventiva contro i potenziali vettori di infezioni arbovirali. I passaggi a Terni dei mezzi con veleno nebulizzato si svolgeranno tutti nelle ore notturne, tra le 23 e le 5 del mattino. Lunedì 5 agosto tocca ai quartieri di San Valentino, Cesur e Campo Micciolo. Il 6 agosto sarà il turno di Gabelletta, Campomaggiore, Campitelli, Borgo Rivo e La Castellina. Infine mercoledì 7 agosto zona Fiori, Borgo Bovio, Via Trevi. Durante i trattamenti e nelle ore successive si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni. Non stazionare all'aperto e tenere chiuse porte e finestre. Non asciugare biancherie all'esterno. Non tenere all'aperto gli animali domestici e mettere a riparo acqua e cibo loro destinati. Coprire colture e ortaggi e lavarli accuratamente prima del loro consumo. Un anno fa si provvedeva ad abbattere i pini pericolanti ai margini di Viale Centurini. All'ordinanza si accompagnava la promessa di nuovi impianti e a compensazione degli abbattimenti. Che ne ha delle nuove piante e servizio? A un anno preciso dall'abbattimento dei pini presenti a margine di Viale Centurini, qual è la situazione? Non diversa da quella immediatamente successiva ai tagli. Il panorama è rimasto quello brullo e un po' deprimente che si presentava subito dopo gli interventi di messa in sicurezza, così vengono chiamati, dell'area in questione, che fu giudicata non sicura dai vigili del fuoco in seguito a sopralluogo. La caduta di alcuni alberi può innescare un effetto domino, si disse, e quindi via agli abbattimenti, con la promessa però che gli alberi segati via sarebbero stati rimpiazzati da altri. L'ordinanza di abbattimento in realtà già conteneva indicazioni precise in merito, parlando esplicitamente di un impianto compensativo di 129 alberature, con circonferenza 12-14 centimetri in zolla o vaso, altezza circa 2 metri sul sito indicato dal comune. L'assessore Aniello pure aveva ribadito che per ogni pino in meno si sarebbero piantati due alberi nuovi in più. Che ne è di questi reimpianti? Sono stati più fatti? Diciamo solo che il comune non è tenuto a reimpiantare gli alberi esattamente nello stesso punto in cui i precedenti sono stati tolti. Ma allora, dove sono questi alberi? Verranno effettivamente impiantati altrove? In conclusione, a un anno di distanza, percorrere via Centurini non dà un senso di ordine riconquistato, bensì di brullaratura in abbandono. Anche se in questo fine settimana si spera in qualche momento di respiro in più per un lieve calo delle temperature massime, questi sono giorni in cui tutti siamo alla ricerca di un po' di fresco. Come provvedono i ternani a questa esigenza? Preferiscono il cocomero oppure il gelato? Ascoltiamoli. Cocomero o gelato? Cocomero. Gelato mai? Anche sì. Alla, tutti tuoi. Beh, è più magro il cocomero. Ah, ecco, ok. Cocomero. Quante volte lo mangia a settimana? No, perché del solito ne compra, siamo due persone, ne compra uno, magari tre, quattro giorni a fila. Dopo è un periodo di pausa. Gelato, gelato a questi tempi è l'ideale. Te rinfresca, te mantiene buono. Il cocomero no? La sera dopo sera. Ecco, quindi il giorno gelato, la sera cocomero. Fanno uno viaggio è meglio gelato. Perfetto. D'una di più. Perfetto. Cocomero. Perché? Perché il gelato, diciamo che ha più calorie. Il cocomero non ha meno calorie, è più rinfrescante. Il gelato. Il gelato. Perché? C'è più scelta, gusti. Invece te? Concordo con lei, stesse motivazioni. Cocomero no? No, cioè è buono, però meglio il gelato. Acqua, niente di cocomero, niente di gelato. Solo l'acqua? No, neanche l'acqua. E come si rinfresca? Io ho il corpo giro fresco. Ah, lei ha il corpo giro fresco? Sì. Fantastico, allora è un mito. Ho 84 anni. Quanti? 84. Complimenti. Grazie. Un 44 anni imprenditore, titolare di una ditta di campello sul cliturno che tratta e trasforma in legno, è rimasto seriamente ferito a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto nella giornata di giovedì. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono portati i carabinieri della compagna di Spoleto e gli addetti del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Uslo Umbria 2 per ricostruire l'accaduto. L'uomo ha riportato gravi ferite alla mano sinistra, collessione dei tendini. Dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. 117 anni dal primo campo scout guidato da Robert Baden Powell nel 1907. Lo scoutismo, un movimento nazionale, internazionale e universale che non smette di attrarre giovani di ogni età. Vediamo. Il primo agosto 1907 iniziava il primo campo scout della storia, nell'isola di Brown Sea. L'idea del tenente generale Robert Baden Powell, chiamato affettosamente BP dagli scout di tutto il mondo, ha creato un metodo educativo che non smette ancora oggi di attrarre tantissimi giovani. Da sempre basato sul volontariato e sull'imparare facendo, tramite attività di gruppo e all'aperto, consente ai ragazzi di creare legami e vivere esperienze formative, non facendosi mancare mai il divertimento. Lo scoutismo è per me un modo in cui riesco a esprimere veramente quella che sono. È un ambiente in cui mi trovo molto bene, in cui ho creato molte amicizie, in cui mi sento me stessa. È un ambiente che mi ha permesso di crescere, di essere più indipendente, di imparare moltissime cose che non avrei saputo fare senza lo scoutismo, di poter vivere moltissime esperienze, di andare all'avventura e di vivere delle emozioni che senza lo scoutismo non avrei vissuto sicuramente. Soprattutto quando faccio i campetti con altri scout, mi rendo conto che siamo veramente tanti, è una sensazione molto particolare, mi rendo conto che potremmo veramente fare qualcosa se tutti ci impegnassimo. È bello essere comunque parte di un qualcosa di più grande che può provare a migliorare il mondo e a cercare di cambiarlo in positivo. Il termine scout, che significa esploratore, fu scelto da BP pensando proprio ai ragazzi e agli infiniti orizzonti che hanno da scoprire. Ragazzi in grado di cavarsela da soli nelle situazioni più svariate, in modo da essere organizzati sia esteriormente che interiormente. Ad oggi lo scoutismo conta più di 40 milioni di iscritti e viene giudicato uno dei più grandi movimenti di educazione non formale al mondo amato dai giovani. E altra serata emozionante alle vie del cinema di Narnia, conferma del fatto che la trentesima edizione della Rassegna stia avendo un grande successo, serata dedicata alla superstar Sofia Loren, protagonista sul grande schermo con la versione restaurata del mitico film Ieri, Oggi e Domani, e nei ricordi delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei. Ascoltiamoli. Sofia Loren è stato certamente un modello dirompente. Lo è stato nel dopoguerra ovviamente. Nel numero di bianco e nero dedicato a Sofia Loren, fatto con il centro sperimentale diretto da Alberto Crespi, noi in qualche modo c'è un'intervista con Natalia Aspesi, che è una coetanea diciamo più o meno di Sofia Loren, un po' più grande, ma ha vissuto la stessa società, la stessa Italia, in cui lei dice una cosa secondo me fondamentale. Dice uscivamo dalla guerra ed eravamo tutte brutte. Eravamo brutte per la fame, eravamo brutte per lo spavento, eravamo brutte perché non avevamo i soldi per curarci, niente. E ci è apparsa Sofia Loren e abbiamo capito che c'era un modello di femminilità anche popolare, anche popolana, a cui però potevamo guardare. E questo è stato, credo, dirompente per le donne dell'epoca. Se vogliamo tracciare una microstoria della femminilità in Italia e quindi anche sociale, direi che forse Sofia Loren, in questo senso anche un po' le maggiorate, come si chiamavano allora, hanno rappresentato proprio l'uscita dalla fame, ecco, l'uscita e quella appetitosa gioia di vivere che portava verso il boom, che portava verso una nuova società. Nella storia delle donne italiane, più ancora che dell'Italia, la Loren ha scandito alcuni capitoli molto importanti, a volte anche talmente diversi da rendere complicato immaginare che li abbia fatti la stessa attrice, perché se noi pensiamo alla casalinga di una giornata particolare, oppure alla popolana di ieri, oggi e domani, che rimane sempre incinta per non finire in galera. Sono due personaggi simili, ma poi pensiamo ad altri film, penso alla miliardaria, e sono personaggi divertissimi. Dentro però c'è sempre una grande qualità di vitalità femminile, che anche le umiliazioni, le difficoltà, qualche volta è successo, non spegne mai. La Loren ha sempre un motore in moto squisitamente femminile e davvero personale. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, noi ci vediamo tra poco con le notizie sportive, restate con noi. Ed eccoci di nuovo in onda, con la pagina sportiva, la Ternana ha perso 4-0 alla sua esordia liberati contro i greci dell'Olimpia. Cos, nonostante il capo, qualche spunto interessante la squadra rosso-verde l'ha fornito alla pari del suo allenatore a fine gara, infatti Abbate ha parlato anche di un aspetto che davvero non gli è piaciuto. Vediamo. La Ternana ha resistito 60 minuti contro l'Olimpia, cost fresco vincitore della Conference League appena un paio di mesi fa ai danni della Fiorentina. A liberati venerdì pomeriggio è andata in scena l'ultimo amichevole dell'estate rosso-verde e prima contro una squadra professionistica. Per Ignazio Abbate si è trattato anche dell'esordio a libero liberati, assenti per piccoli problemi fisici, vitali e viviani. Importa esordio assoluto per Franchi, tre più positivi di giornata. Poi linea difensiva 4, composta da Casasola, Loiacono, Capuano e il 2006 Bellavigna. In mediana la coppia Loide-Burro, mentre in attacco Patanè, Carboni e Cicerelli ha alle spalle di Ferrante unica punta. E con questo 11 la Ternana ha messo in difficoltà l'Olimpiakos, soprattutto sul piano del possesso palle della supremazia territoriale. Infatti nei primi 60 minuti è stata la squadra di Abbate a fare la partita, quasi sempre nella metà campo avversaria, spesso potenzialmente pericolosa anche se poi a conti fatti, ha calciato una sola volta nel secondo tempo con Ferrante e fuori dallo specchio della porta. Nella ripresa, quando le energie sono venute meno, la forbice tra le due squadre si è allargata e così l'Olimpiakos ha iniziato a calciare in porta con maggiore frequenza e soprattutto a trovare la via del gol. E così a segno sono andati via via Martins, Apostolopulos, Jeremchuk e Papacanellos. Nonostante la sconfitta, una prestazione incoraggiante da parte della Ternana, anche se Ignazio Abbate non ha mancato di sottolineare un aspetto che proprio non gli è piaciuto. Sono soddisfatto per l'atteggiamento, per la voglia, per quello che hanno cercato di mettere dentro i ragazzi, nel senso hanno cercato di mettere dentro le richieste che io ho fatto. L'atteggiamento è stato super positivo, hanno avuto coraggio nel giocare la palla, nel cercare di andare a far male. Poi è normale che tante cose vanno migliorate, però ho detto ai ragazzi a fine primo tempo che al di là del blasone dell'avversario e la qualità dell'avversario, per come hanno interpretato i primi 60 minuti, dovevano essere incazzati per non essere in vantaggio. E questo è il cambio di mentalità che secondo me va fatto. Non bisogna accontentarsi. È una squadra che ha un'identità, che cerca di fare. Abbiamo anche delle buone qualità, però possiamo e dobbiamo dare di più. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Sicuramente i primi 60 minuti sono stati molto, molto positivi. E Alessandro Di Paolo era presente ieri a Liberati ad assistere alla partita dei rossoverdi contro i greci dell'Olimpiaco. Se questo fa pensare ad un riafficinamento dell'imprenditore romano, il papà Roberto, il presidente dell'Ossia Mare. A Nicola Guida, servizio. Alessandro Di Paolo, il figlio del presidente dell'Ossia Mare Roberto Di Paolo, come sostenuto da più fonti molto vicino lo scorso anno a Nicola Guida, ieri era presente in tribuna Liberati, in compagnia dello stesso presidente e del direttore generale Diego Foresti, ad assistere alla partita dei rossoverdi contro i greci dell'Olimpiaco. Noi, di AM Terni Television, il riavvicinamento di Di Paolo alla Ternana in realtà lo abbiamo annunciato due giorni fa. Le nostre indiscrezioni romane hanno quindi preso forma. Ed oggi, della presenza a Liberati di Di Paolo, lo ha scritto anche l'attestata romana Il Messaggero. Qualcosa che sia accadendo a livello societario? Noi abbiamo sostenuto a più riprese, in particolare in questi ultimi giorni, il fatto che Daniello, figura accostata spesso a Di Paolo, non essendo più approdato alla US Sabbia, fa pensare che Di Paolo, anche per questa stagione, possa essere vicino in qualche modo a Nicola Guida. Noi, allora, abbiamo sentito il presidente, Nicola Guida, che ci ha ribadito testualmente che Di Paolo è solo un amico, che ha assistito a tutte le partite dello scorso anno della Ternana e che non è interessato all'acquisto della società. E la TG termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la programmazione di MEDIVO. 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 MEDIVO.